Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto in compagnia di Angelica, Artemisia Pedatella che conoscete già per la presentazione del libro che è avvenuta qui a Cleto qualche tempo fa un germoglio fra le sbarre. Lei si occupa di tantissime cose, anche di teatro e in questo caso è organizzatrice di uno spettacolo, anzi di un concerto, scusate se mi sono sbagliato, di Oscar Bonelli che si terrà alla mese a terme il 20 aprile, quindi fra qualche giorno e sempre ha a che fare con Cletarte, giusto Angelica? Sì, perché Cletarte è l'ente che organizza tutto questo, diciamo me ne sono incaricata io insieme a qualcun altro, non sono sola ovviamente, Cletarte è impegnata a fare cose belle. A questo punto ti voglio chiedere quello che sarà questo concerto, perché è un concerto speciale, particolare, non è il solito diciamo teatrino convenzionale dove si vedranno strumenti musicali o una persona che si esibisce, ma è qualcosa che ha a che fare con la natura, con gli alberi e qui ci devi raccontare tu. Allora, Oscar Bonelli è un polistrumentista, suona strumenti antichissimi, ma anche strumenti autocostruiti con corna di animali, con cortecce, con qualunque cosa, però solo materiali naturali, perché lui fa suonare la natura, ci fa ascoltare qual è il suono che produce la natura in tutte le sue forme e questa è già di per sé una cosa interessante, ma la cosa più interessante di questo concerto è che ad un certo punto, grazie ad una particolare tecnologia che è in grado di amplificarne il suono, ci farà ascoltare che tipo di musica producono le piante, gli alberi, perché la difesa del pianeta, in particolar modo la protezione della natura vegetale e degli alberi è qualcosa che non solo, secondo me, deve essere patrimonio di ogni persona che non solo fa arte, ma che vuole vivere su questa terra, ma è anche una condizione fondamentale per la nostra sopravvivenza, perché gli alberi alimentano la terra, la terra senza gli alberi è morta e quindi fare un evento artistico che sia centrato su questo per la prima volta, e questo lo sottolineo, perché non ho sentito precedentemente, soprattutto sul nostro territorio, di eventi che siano stati orientati in questo modo, per me è l'inizio di qualcosa che deve continuare. Ti volevo fare un'altra domanda, qui purtroppo a Cleto, ma come in realtà in tutta l'Italia e in tutta la Calabria, si è svolto proprio l'anno scorso, in periodo estivo, un grosso incendio, quindi oltre a tutelare il patrimonio boschivo locale, si parlerà anche di questo, io so che c'è anche la protezione civile che ha patrocinato l'evento, il concerto. Sì, perché ha ritenuto questa campagna di sensibilizzazione e prevenzione degli incendi un'iniziativa molto importante, di cui il concerto è solo il là, il là di inizio. La presenza della protezione civile significa tantissimo per noi, significa intanto essere riconosciuti e sapere che le istituzioni sanno che c'è qualcuno, ci siamo noi, che ci stiamo impegnando sul campo per unire qualcosa di bello, l'arte, a qualcosa di utile. E poi significa anche poter comunicare meglio quello che noi stiamo facendo, significa anche aver aperto uno spazio, uno spiraglio che può creare rete anche per altri, per chi poi condivide la stessa sensibilità e può interagire con noi, con loro, insomma, è un incontro felice che ci onora. Grazie a tutti.